Hai presente quando tu organizzi uno scherzo bello bello, ma poi lo scherzo diventa così grande che non sai come fare lo scherzo allo scherzo? Ci troviamo un po' qui, è incredibile, è veramente incredibile. Non avevamo nessuna velleità competitiva, però ce la siamo chiamata perché abbiamo detto dal primo momento che volevamo arrivare penultimi e siamo arrivati penultimi al contrario. È andata così, strano. Quanto ha contribuito, secondo voi, in percentuale nella vostra vittoria questa fantastica, beautiful Mrs. P.D. Jones? È tanti. È un bel po', sicuramente. Siamo contenti anche perché si sono divertiti tantissimo loro e noi siamo molto contenti di averli portati con noi a condividere questa esperienza perché è stata un'esperienza bellissima. E poi sì, abbiamo provato a fare succedere qualcosa perché ci piace fare succedere le cose dove andiamo e è successo e siamo molto contenti. È stato fantastico. È la prima volta che Nico e io abbiamo danciato con la band e è stata una meravigliosa esperienza. I ragazzi sono fantastici. Era molto evidente a chiunque che Ermal e Fabrizio fossero i più forti di questo festival e lo era anche a noi. È ovvio che ci sembrava talmente surreale essere arrivati lì che abbiamo detto che forse è una visione surreale della realtà e può succedere di tutto. Ma era molto chiaro che loro sono particolarmente forti e poi sono due entità con un vasto pubblico unite, con una canzone bella interpretata da Dio e con un grande testo. Quindi